benvenuti in questo video dove capiremo l'enorme potenzialità di questo sistema nel trasformare qualunque collaboratore in un collaboratore efficiente produttivo le cui dimenticanze saranno solo un brutto ricordo come avete visto nel precedente video assegnare un incarico partendo da un elemento di calendario da un messaggio da un contatto è cosa veramente facile e infatti come potete notare io oggi mi trovo 16 incarichi da fare tutti suddivisi per livello di priorità questa è una cosa urgente le cose di oggi me le organizza secondo la data e ora indicata appunto vicino agli avatar la tipologia di incarico e evidenzia altresì il sistema che mi sono rimasti indietro due incarichi di ieri e degli incarichi di cui devo dare una pianificazione quindi non ho ancora assegnato la data ma questi 16 incarichi non spariranno finché io non li completerò e non ci farò qualcosa perché questa soluzione è semplicemente fantastica perché innanzitutto mi è subito chiaro chi mi ha assegnato questo incarico quindi se andate a vedere questo tipo di dato si vede che è manuela il primo la prima faccina il primo avatar che mi ha assegnato un incarico in cui devo rispondere entro oggi ma soprattutto è subito chiaro il contesto trattasi di una email inviata in questo caso 16 del 2 in questo caso ricevuta il 15 del 3 dove vedo i partecipanti vedo già la richiesta che c'è all'interno e quando io apro l'elemento dell'incarico subito chiaro il contesto tutta la zona collaborativa e posso chiarirmi con gli altri visualizzatori in merito alla cosa che devo fare direttamente qui in chat e allegare il file esattamente come abbiamo visto nel primo video completare un incarico è molto facile quindi se in questo caso io devo rispondere devo completare questo incarico quando completa essendomi stato assegnato da qualcun altro posso inserire una nota di completamento quindi va bene confermo che il listino che mi sta che il nuovo prezzo va bene questa notifica arriva appunto alla persona che mi ha assegnato un incarico altresì posso e quindi come vedete il contatore si è ridotto posso altresì andare a monitorare tramite questa zona di filtri gli incarichi che devono essere fatti entro oggi miei assegnati da me dove posso vedere a chi li ho assegnati ne ho assegnati tre manuela uno a claudia a che cosa si riferiscono quindi qua ci sono le varie tipologie di quando quando erano le naturali scadenze posso vedere se sono responsabili di un team anche appunto gli incarichi del mio team in questo caso un database limitato ma il sistema si comporta con le stesse prestazioni che trattasi di migliaia di record o milioni di record il sistema non è assolutamente influenzato dalla quantità di informazioni ma proprio perché il sistema è estremamente veloce tra i miei 15 incarichi che posso visualizzare al di qua velocemente questo si riferisce ad un appuntamento del 26 del 3 dove alle 16 30 è indicato se guardate questo record che devo appunto chiamare per chiedere la conferma allora non mi ricordo esattamente di cosa si tratta apro il contesto e vedo che l'ho chiamato un paio di ore fa il quale appunto giacomo mi dice richiamare 16 30 per conferma definitiva quindi alle 16 30 riceverò una notifica che è arrivato il momento di chiamare quindi il sistema mi permette di evitare qualunque forma di dimenticanza quindi quando ricevo una nuova mail e vado all'interno dei messaggi c'è una nuova mail mi sta chiedendo la data di consegna in questo caso io devo ricordarmi di rispondere a questa mail quindi mi assegno di rispondere entro lunedì oramai salva bene è assolutamente impossibile che mi dimentichi di rispondere a questa mail perché appunto tra gli incarichi pianificati della prossima settimana mi troverò di rispondere alla mail che abbiamo appunto appena contrassegnato piuttosto che altresì facile ricordarsi di mail che io ho inviato di cui sto aspettando risposta quante volte si manda un'email con l'attuale sistema di posta che sia outro gmail che sia e è difficile contrassegnarsi che entro una certa data mi deve dare risposta vedete questa mail è stata mandata il 15 del 3 scadenza contratto la mandata gianni lupo e mi sistema mi ricorda che oggi mi ero contrassegnato che stavo aspettando feedback quindi rivedo il contesto posso vedere degli appunti che mi sono preso ma altresì nel momento in cui voglio monitorare gli incarichi assegnate che punto si trovano posso vedere degli incarichi cosa succede se come in questo caso io dato a manuela un incarico urgente e manuela lo completa nel momento in cui manuela completa l'incarico mi arriva una notifica sul desktop la quale mi mette in evidenza eccola qua disponibilità per spro conferma una nuova data quindi avevo chiesto di spostare il cliente quindi manuela mi sta dando un'informazione e mi arriva sostanzialmente l'informazione che manuela ha completato questa cosa da fare quindi quando entro nel sistema queste informazioni rimangono tracciate quindi ho sia un sistema di notifica sul mio desktop o sul mio telefonino mobile e in più rimane tracciato in forma indelebile questo completamento vado altresì negli incarichi che si riferiscono a questo contesto e trovo tracciato questo lavoro con le date inclusi potrai trovare magari che esistono altre cose da fare sullo stesso contesto non ancora completate allora perché tu appi è incredibile perché inserire una cosa da fare all'interno di questo sistema basta avere il contesto e tipicamente il contesto c'è già una mail che mi arriva una mail che ho inviato un appuntamento che mi ha fissato il collega piuttosto che mi posso anche inserire qualcosa che non parte necessariamente dalla mail mi do un nuovo incarico ricordarsi di chiamare Antonio lunedì 26 quindi lunedì 26 questa cosa in cassaforte come lo faccio da pc come potete vedere posso farlo identicamente nell'interfaccia mobile e quindi ho sempre con me un qualcosa che mi permette di me di avere chiaro cosa devo fare assegnare alle risorse con la certezza di metterle in condizioni di non dimenticarsene quanto vale in un'azienda una risorsa che non ha dimenticanze una delle principali problematiche nella ricerca del personale potete fidarmi della mia ormai ventennale esperienza e trovare un collaboratore che sia da un lato capace nel proprio operato quindi nelle proprie competenze verticali di settore e dall'altro lato sia anche una persona ordinata precisa in grado di rispettare le scadenze questa doppia questo doppio skill è tipicamente molto complesso da trovare in una risorsa e per questo servono budget importanti per trovare risorse con queste capacità in questo caso invece anche la persona magari più creativa che quindi se essere un ottimo commerciale un ottimo tecnico quindi persona molto creativa che spesso coincide con una persona spesso disordinata sono in grado di metterlo in condizioni di diventare puntuale perché perché quando gli assegno l'incarico lui si trova questo contatore quindi il suo tempo è organizzato col giusto livello di priorità col giusto livello di urgenza e soprattutto io la possibilità in ogni secondo di monitorare e cambiargli la sequenza delle priorità decidendo quindi che questa cosa che ho segnato oggi ad un mio collaboratore decido di spostargli ad esempio lunedì andando quindi a toglierlo nelle cose da fare oggi avvertendolo spostandoli nelle cose pianificate e quindi ho il controllo totale della mia organizzazione in termini di produttività tu happy vi farà fare un enorme salto in avanti in termini di produttività e i disagi che derivano dalle dimenticanze che spesso non sono forma di attrito all'interno dell'organizzazione saranno solo un brutto ricordo non è la parola mia questa ma è la parola oramai delle centinaia di aziende che hanno implementato tu happy che confermano come all'interno dell'azienda nasca un clima decisamente più collaborativo più sereno che lasci spazio alla produttività alla creatività e al confronto di tipo produttivo e non un confronto volto a definire quali sono state le dimenticanze o le criticità rilevate ci vediamo nel prossimo video